Oltre 125 kg di hashish, un quantitativo che se fosse arrivato sul mercato e venduto a dettaglio avrebbe consentito la criminalità organizzata a un guadagno che esistiva intorno al milione di euro, è stato intercettato e bloccato dai finanzieri di Villa San Giovanni che hanno arrestato in fragranza il presunto Corriere, un 46enne della provincia di Roma che dovrà rispondere del reato di traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo era diretto in Sicilia a bordo di un Audi quando è stato fermato per un controllo nell'area degli imbarcaderi prima che si imbarcasse sul traghetto mostrando segni di nervosismo cosa che ha insospettito i militari che hanno fatto intervenire una unità cinofila specializzata nella ricerca di stupefacenti e perquisito approfonditamente la vettura. E così, grazie al fiuto dei cani antidroga Siri ed Edin altamente specializzati in questo tipo di operazioni, i militari hanno scoperto sei borsoni di colore nero contenenti panetti di Ashish dal peso complessivo di oltre 125 kg. Con il fermo è scattato anche il sequestro della stupefacente di due telefoni cellulari.